Qualsiasi tipo di narrazione lunga abbiamo in mente? Prima di cominciare dobbiamo decidere che cosa vogliamo raccontare e come. In questo corso studieremo come progettare una storia, lavoreremo sulla visione in tutti i sensi possibili, capiremo come si organizzi e si strutture il lavoro, leggeremo molto e infine ridaremo inizio alla vostra storia. Io sono Marta Barone e vi aspetto al nuovo corso online della Scuola Holden Progettare una Storia. Grazie per la visione!